Bene, la cosa divertente è che dovevamo fare lo sforgnoi, che è appunto dietro di noi, queste qua in verità sono lettori di campestrine, però abbiamo sbagliato sentiero. State attenti a portarvi a guardarvi bene la cartina e a non fare gli imbecilli come noi. Oggi siamo qui a Passo Cibiana e ci apprestiamo a fare i sforgnoi, che sono praticamente quel gruppo montuoso là. Quindi ovviamente Piccozza era un po'. Mi sta complicando la vita solamente per poter dire di aver usato la picca. Sono delle salitine relativamente semplici, massimo secondo, terzo grado e un po' tecniche, però nulla di difficile. Se non sbaglio, dobbiamo prendere appunto il 483. Ah sì, da qui si vede, da qui si vede, che è il ghiaglione, ok. Allora andiamo avanti e dopo controlliamo. Ah, rettifico, è il 485 per Forcella Ciavazoles che porta gli sforgnoi. Mentre il 483 che è lì, porta appunto a Forcella Bella che è quella del sasso lungo di Cibiana di Cadore. L'abbiamo proprio cappellato all'inizio. Eh vabbè, poni. Oggi cacchio, c'è una bellissima visuale comunque. Si vede tutta la valle del lago di Centro Cadore e poi si vedono in fondo le dolomiti friolane. E questo è il sasso lungo di Cibiana. Ecco qui si vede anche il sentiero che taglia. Beh dai, un po' di neve c'è. Guarda che bello che ha il civetta. Il civetta è questo qua. Se c'è un po' di vetrato mi pare. Eccoci qua. Qua c'è la Forcella che divide il campanile di Campestrin dal sasso lungo di Cibiana di Cadore. Carina, hai visto la Forcella più bella? Però carina anche questa, dai. Qui dietro si va il Forgnoi, mentre di qua si va al sasso lungo di Cibiana di Cadore. E ora abbiamo deciso di fare invece il sasso lungo di Cibiana che alla fine è qui vicino e ci smetterà veramente poco a farlo. Eravamo troppo convinti che fosse quello il sentiero invece l'abbiamo cappellato. Poteva andare peggio. Ora ci siamo capiti, ci fa un po' di casino qua. Ora abbiamo appena fatto la Forcella Bella che ha anche tipo il cartello tipo split plot. E da qui ora stiamo facendo il normale, qui li sasso lungo. Allora per di qua, c'è anche il... Sì, ha già un cappellato un po'. E da qui parte la normale. Ben segnata, eh. Guarda quanti bolli rossi nuovi di stecca. Finalmente si mette la mano sulle rocce. Qualcosina, dai. Poca roba, però. Beh, è un po' esposto comunque, eh. Doviamo stare un po' attenti qua. Anche perché siamo comunque sul versante, non è proprio quello nord, però. All'ombra. Magari si può creare un po' di ghiaccio. Allora che torriamo. Calalo. Ecco il bel caminetto. Canalone. Oh, bo. Come vuoi chiamarlo. Guarda, carina. Sì. La roccia è un po' una... In certi punti una schifezza, eh. Sì, di qua, di qua. Ci sono i bolli qua segnati. C'è il bollo e poi c'è il buco. C'è anche un pezzo di cordone. Dai, carina. Un po' pegnato. Un buco. Caratteristico. Fredda e bagnata. Credo anche se sarà un po' di pratica. Però mi sa che devo andare per il là. Sono andata fuori un po' via. Non credo che manchi troppo, eh. Siamo che qua la roccia è un po' uno sfasciume. Quindi gelo, scongelo. Qua si rompe tutta. Proprio bella ghiacciata. Quanto manca, Filippo? Cinque minuti. Adesso spiana, vero? Adesso spiana, bella. In effetti, anche io mi aspettavo più neve, eh. Peccato. La croce. Vabbè, era una burla. Tu la vedi la croce? Ah, ok. Ah, stiamo arrivati. Tutto il tutto è. Breve. Dico io. Madonna, che caldo che fa il sole. Beh, qua è... Qua è bello ghiacciato, comunque, eh. Eh. Bello qua. Il visuale è... Secondo me è una visuale, è veramente una bomba. Casa mia è in quel paesetto là. Si vede benissimo il cimitero. Ok, praticamente è più difficile la discida della salita. Perché qua è pieno di roccette veramente schifosissime. E quindi... Appunto, ecco, vabbè. E quindi ti le tiri dietro, praticamente. O le tiri dietro ai fioi sotto. Non sono più attenti qua. Quindi, veramente, la discesa è uno schifo. Appunto. Era meglio, veramente, quando è tutto ghiacciato. Almeno, non tiri giù il mondo. Almeno, la picca che mi dà una mano. Poi sapete usarla. È un altro paio di maniche. Stavo così brutto la salita qua. È un po' delicatino qua. Stavo così brutto la salita qua. Ostia. Almeno, non sto morrendo dal caldo. Perché come il sole fa un caldo boia. Altro che, ragazzi. Madonna. Ostia, se caschi dentro, fai un bel volo comunque, eh. Non so come prenderlo, sto buco. Essere sincero. Sto molto improvvisando. È anche male. Così, credo che vada fatta, comunque. Ok. L'ho fatto malissimo. Malissimissimo. Mi hanno lasciato solo. Sono spariti. Andate avanti, sono dentro. Sono arrivati in macchina e loro partì, praticamente. Questa è la forcella bella. Perché c'è il tronco, la roba spezzata. Questa è la forza bella. Sì. E da qui in verità ci sarebbe la normale. Per la torre Campestrin. Sì, in teoria questa dovrebbe essere appunto la normale Campestrin. Non so quale sia la normale, però non la farei con questa roccia io, banalmente. Anche se fosse questa, francamente anche no. Niente, alla fine abbiamo deciso di evitare il campanile di Campestrin. Perché è tipo un sfasciume di sassi incredibile. E quindi gli hanno detto ci teniamo la nostra vita. Ma è meglio non rischiarsela. Anche perché in queste zone comunque le rocce sono a tratti belle. E spesso si parla di sfasciumi e di roccette un po' messe lì in equilibrio, ecco. E ora, niente, stiamo scendendo. In verità, appunto, è una vietta molto tranquilla. L'unica pecca appunto è il discorso che la roccia. È quello che è. Quindi in verità forse farla in un periodo invernale, oppure comunque autunnale o primaverile, con una buona copertura annivale e anche con delle temperature più basse. E potrebbero creare delle condizioni un po' migliori. Quindi magari c'è la neve, ghiaccio, ramponi, piccozza. E' adesso molto più tranquillo che bestemmiare su i sassi che ti si cavano in tutte le parti. E' anche più sicuro per le persone suddietro. Grazie. Grazie a tutti